Ciao a tutti, siamo felici di esserci qui per festeggiare questa qualifica di Diamond Manager. Chiaramente questo è un grande sogno che già da 16 anni fa è iniziato, anno per anno, verso il successo. E chiaramente non è solo noi, siamo anche chiaramente un ringraziamento a tutto il team, perché in questa qualifica chiaramente ogni singola persona fa parte per portare avanti questo successo. E un grazie a tutte queste persone. Noi siamo Forever!